Parliamoci chiaramente, colleghi della maggioranza. Sia il vostro parlare sì sì, no no. Avete cominciato con il rinviare la fatturazione elettronica per i distributori di carburante. È difficile combattere l'evasione fiscale quando il fondatore del Movimento ha particolari problemi con i pagamenti in nero, lo capisco, ma è un dato di fatto oggettivo che avete continuato rinviando su tutte le posizioni. La Tav la fate sì o no? La Gronda a Genova la fate sì o no? La revoca delle concessioni alle autostrade che vi siete impegnati a fare la fate sì o no? La flat tax al 15% che avete promesso ai cittadini la fate sì o no? Il reddito di cittadinanza a 780 euro mensili, l'annullamento, la cancellazione della legge Fornero sì o no? Questo governo ha un'indubbia capacità televisiva, per la comunicazione si affidano a un'esperienza del Grande Fratello per l'Università alle Iene. Il Ministro dell'Interno apre gli avvisi di garanzia e sembra c'è posta per te, ma in realtà il vero punto di riferimento televisivo di questo governo è il fatto che le vostre promesse elettorali sono degne di uno scherzo a parte. Le vostre promesse elettorali hanno ingannato i cittadini e siete qui oggi a dire rinvio, prorogo, rimando. Voi non state togliendo i soldi del PD, voi state togliendo i soldi ai vostri cittadini, alle periferie delle vostre città. Voi sui vaccini avete fatto una cosa truce. Voi sui vaccini avete fatto scrivere un decreto legge non agli scienziati ma agli sciamani. Voi avete messo in discussione la scienza e la ricerca. Voi avete scelto anche nelle vostre dichiarazioni di fare i no-vax coi figli degli altri. Perché dite che voi vaccinate i figli ma non vi preoccupate dei bambini più deboli che non potranno andare a scuola in ragione delle vostre responsabilità. Qui c'è la scienza contro la scaramanzia, superstizione, ignoranza. A quei commentatori che dicono, fuori da qui, dov'è l'opposizione? Io dico, dov'è la pubblica opinione? Dove sono i grandi giornali? Solo il New York Times ha fatto un pezzo di una certa intensità sul tema dei vaccini, prendendo in giro l'Italia, purtroppo. E qui, dopo aver ringraziato Roberto Burioni, io ringrazio un italiano che si chiama Iva Zaizev, che è il capitano della nazionale di pallavolo, che ha avuto il coraggio di sfidare gli haters e l'odio ingegnerizzato sui social per dire una cosa semplice, che lui, la sua principessa, la dava a vaccinare e lo faceva senza paura delle reazioni. È la più bella schiacciata che ha fatto il capitano della nostra squadra di pallavolo. Vorrei che gli arrivasse il nostro grazie. Il tempo è galantuomo, diciamo spesso. In questi giorni la mente di molti di noi, della nostra generazione, è andata a un fatto curioso. Harry Winkler, un attore più noto in Italia come Fonsi, il personaggio che 40 anni fa impersonava Fonsi, ha vinto il premio, c'è qualche Ralph Malf che ha bisogno di intervenire, lo sopportiamo, ma ha vinto il premio forse più importante, gli Emmy. Erano da più o meno 43 anni che stava aspettando rispetto a quello che aspetterà un creditore della Lega, e gli è andata anche bene, perché 43 anni contro 80 anni il tempo è stato più galantuomo per Winkler che per i creditori della Lega. Il punto è che sui vaccini il tempo sarà galantuomo.